E' un'arma rinomata. Ho sentito storie sulla sua bellezza e sulla sua lama, ma non avrei mai pensato di vederla. È da un po' che non mi alleno con una pedana di bambù. Sarebbe un onore vedervi in azione. Quella spada Sakai è eccezionale. E la brandisce uno spadaccino straordinario. Ma allenarvi col bambù non farà che rafforzarvi. Dovrò essere forte per ciò che mi aspetta. L'isola è piena di queste pedane di bambù. Vi aiuteranno ad affinare le vostre abilità. Addio, mio signore. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.